Musica Negli anni 60 uno scienziato fece un esperimento Creò un habitat ideale per i topi Lo chiamò Universo 25 Spazio, acqua, cibo, temperature ideali I topi si riprodussero Radoppiarono, radoppiarono ancora e ancora Il paradiso diventò l'inferno Cominciarono ad attaccarsi ferocemente Ad uccidere i neonati A mangiarsi a vicenda pur avendo cibo Morte sociale E poi morte fisica Autodistruzione Ad un certo punto si interruppero le nascite Sprofondamento comportamentale Lo definì Sprofondamento comportamentale Sprofondamento comportamentale Il bello è che quell'habitat poteva contenerne molti di più Ma c'erano più topi Che ruoli sociali Lui pensava che lo stesso meccanismo valesse per gli esseri umani Che la crescita demografica incontrollata avrebbe portato la società al collasso E' alla fine della specie Benvenuti a Universo 25 A presto A presto